E' a firma dei tre consiglieri di Ferrara Nostra, gruppo interno alla maggioranza di governo della città, la mozione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di lunedì 27 febbraio che riguarda il progetto Ferris, in cui si chiede al Sindaco e alla Giunta, date le numerose criticità interne al progetto, sottolineate in sede di conferenza preliminare dei servizi il 10 ottobre scorso, alla presenza oltre che del Comune di Ferrara, della Regione Emilia Romagna, della Provincia, dell'Ausra, dell'ARPA, della soprintendenza archeologica alle belleate, al paesaggio e di altri enti, di rivedere integralmente il progetto Ferris in tutte le sue parti, a partire dall'intervento su via Caldiarolo e dalla proposta di insediare in quella zona un nuovo ipermercato. Ma non è solo contro l'ipermercato che la mozione di Ferrara Nostra impegna il Sindaco e la Giunta a mettere in discussione e rivedere il progetto Ferris, perché Ferrara Nostra chiede anche di restituire all'area di Via Volano la funzione di area verde e protezione delle mure, e di ridimensionare il recupero dell'ex caserma Pozzuolo del Friuli, tenendo conto sia della natura archeologica dell'area che della destinazione a studentato, purché è in linea con le esigenze di UNIFE di offrire ai propri studenti alloggi ad affitto a Calmirato. È una mozione bomba per la maggioranza che ha portato avanti il Ferris, sostenendo i progetti di arco costruzione, in cui vengono messe in dubbio le ragioni di utilità pubblica del progetto e in primo piano le ragioni avanzate in questi mesi da numerosi comitati di cittadini e dalle stesse associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali. I comitati del progetto hanno già ampiamente messo in evidenza la mancanza di trasparenza, di sostenibilità ambientale ed economica, oltre che le ragioni di pubblica utilità.